La valutazione è che noi abbiamo un deficit annuale dovuto a un difetto di origine in cui la promozione d'Abruzzo la facciamo noi, la Regione la fa tramite la Saga, quindi la Saga paga le compagnie aeree e se poi la Regione non ristorna questi importi alla Saga si crea il buco, quindi non è un buco gestionale, è un buco proprio di impostazione. Questa cosa io ho avuto modo di spiegarla in tutte le sedi e in tutte le occasioni. Invece per quanto riguarda il debito sono rimasto anch'io meravigliato dei numeri che sono apparsi sulla stampa ieri e oggi perché ci sono partite di giro fra debiti e crediti con le compagnie aerei che vanno a eliminazione. Ci sono delle partite di giro per dei lavori effettuati in precedenza, parliamo di 5-6 anni fa, in cui noi abbiamo dei debiti con le aziende costruttrici, ma verranno pagate soltanto quando il provveditorato e la Regione ci daranno queste somme. Quindi sono debiti che non devono comparire. Se noi ripuliamo tutto quell'importo enorme che è venuto di queste partite di giro, credo che andiamo intorno a meno della metà.